Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo filmato Cosa mangiare un giorno? Partiamo dalla colazione 3 pandistelle con vicino una bella tazza di tè Mitica e immancabile E insostituibile Per pranzo ho mangiato della pizza con salmone, stracciatella e rucola Mamma mia, lo sapete Io sono una pizza lover, fosse per me Io me la sogno anche la notte, cioè ho proprio una patologia Fosse per me io ci vivrei Stavo pensando ancora col fatto che vi sto facendo il voiceover di queste immagini a quella pizza Io veramente penso di avere una patologia profonda per la pizza Ci camperei ma mi limito Per merenda invece ho bevuto questo tè e basta Non ho mangiato nient'altro vicino Cena invece ho mangiato questi gnocchi non fatti da noi Perché abbiamo deciso all'ultimo di realizzare questo piatto Anche se quasi sempre li facciamo noi in casa Gli gnocchi che sono un'altra cosa Comunque cicchette di patate Con gorgonzola e anduglia Un piatto extra extra hot Quindi si deve amare il piccante In questa casa si ama tantissimo Ebbene sì, siamo già arrivati al post-cena Dove ho bevuto una tisana delle mie Questa molto buona Mi capita di alternarla con tante altre che ho A giro sapete Qua dentro siamo molto forniti di queste cose che ci piacciono Noi ci vediamo domani 20 e 30 con un nuovo video Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti